E' terminata da poco la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Alberto Colombo in vista del match di domani, fischio d'inizio ore 14.30 contro il Foggia. Anzitutto subito le condoglianze al centrocampista biancazzurro Gianluca Germinario, non sarà convocato, colpito da un lutto familiare. Anche il tecnico del Pescara ha mandato il suo messaggio a Germinario. C'è qualche acciaccato ha detto Colombo in conferenza stampa, cose non gravi ma qualche giocatore andrà valutato domani prima del fischio d'inizio. Il Foggia scenderà in campo con il 3-5-2, Colombo ha detto ora hanno la loro dimensione, hanno le loro certezze, mi aspetto una partita diversa rispetto alle ultime allo stadio adriatico, ovvero una squadra che si verrà a giocare la partita. Colombo ha parlato anche della situazione di Facundo Lescano, lo andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli. Come sta la squadra, come è andata la settimana, se c'è qualche eventuale indisponibile domani con il Foggia, gliel'anticipo subito, finalmente si è risolta la questione a Lescano. Grazie. Allora, la squadra ha beneficiato del risultato positivo di domenica, quindi c'è stata una settimana nettamente più serena, sotto profilo lavorativo, quindi è andato tutto liscio. Chiaramente c'è qualche acciaccato non di grave entità, parliamo di uno o due giocatori che probabilmente ci saranno. Per quanto riguarda il caso, chiamiamolo così, definiamolo Lescano, si è appunto arrivati ad una definizione di questo caso. Quindi c'è stato chiarimento, non direi, diciamo che ognuno ha parlato di quello che si aspetta dall'altro, soprattutto per quanto ci concerne, quindi società e allenatore. Il giocatore ha accettato, insomma, di buon grado di ritornare a fare quello che faceva prima. Quindi Lescano è sempre stato, come abbiamo detto, un giocatore importante e adesso abbiamo il compito di riportarlo a una determinata condizione. Innanzitutto Raffia è un giocatore prettamente offensivo, di grande qualità, può fare diversi ruoli, ha interpretato diversi ruoli in diversi sistemi di gioco. Parlando con lui, una predilezione per la zona centrale del campo, ma può partire da esterno per venire dentro a rifinire, a giocare per gli altri. Quindi negli ultimi periodi anche nella Juve Next Gen molto spesso o come tre quarti, o come seconda punta, o come esterno, mentre a sinistra, mentre in nazionale, parlando con lui, ha rivestito spesso il ruolo di esterno di destra. Quindi è un giocatore che conosce il gioco ed è uno che ha qualità, soprattutto credo per rifinire per gli altri. Quindi questo è un giocatore che ci potrà, da subito direi, da domani, perché mi sembra, vedendolo oggi, con una condizione buona, accettabile, chiaro che non conoscendo i compagni, ma forte probabilmente della sua voglia di poter essere utile e di aver accettato comunque, diciamo così, di scendere in una categoria come la C, credo che possa essere già un giocatore importante da domani. Chiaramente partita permettendo e situazioni tecnico-tattiche poi da vedere permettendo. Più volte si era detto che un po' la problematica del Pescara, soprattutto nell'ultimo periodo, era quella in fase realizzativa, numericamente parlando. L'arrivo di Raffià è chiaro, un giocatore di grande qualità, ma non ha il gol nel DNA. Vuol dire che il mercato non è ancora chiuso, potrebbe uscire qualcuno ed entrare qualcun altro. Lei ha fatto qualche richiesta in merito. E poi torno alla partita di domani. Dove deve essere bravo, bravo, tatticamente, visto anche come sta giocando ora il Foggia e il Pescara? Grazie. No, non ho fatto nessun tipo di richiesta. O meglio, quello che avevo chiesto era di liberare quei giocatori che non sono felici del poco spazio che hanno a disposizione. Quindi, quello. Mercato chiuso non lo so, non è di mia competenza. Quindi oggi abbiamo veramente doverosamente in mente la partita di domani. Perché poi è sempre un banco di prova e tutto può cambiare. Oggi, nel senso che veniamo da una settimana positiva, veniamo dal risultato finalmente che ci ha permesso di riassaporare le gioie di una vittoria. Ma dobbiamo trovare continuità. E quindi, noi siamo concentrati, ognuno ha il proprio compito. Il mio compito è quello di pensare alla partita di domani. Perché poi è, come dicevo prima, sempre un banco di prove, sempre una verifica quella della partita di campionato. Per cui, lì, non è una domanda a cui io devo rispondere. Il Foggia è una squadra che è cresciuta, chiaramente. Se noi non dobbiamo toglierci dalla mente la partita dell'andata. Perché ogni partita ha una storia a sé. Figuriamoci nel giro di ritorno dove tutto si esaspera. Perché il tempo che si ha per rimediare ad eventuali errori è sempre di meno. E gli obiettivi si avvicinano, si allontanano sempre di più con meno tempo a disposizione. Quindi, altra partita, altro allenatore. Una squadra che ha, tra virgolette, rivoluzionato anche un po' la rosa. Sicuramente il sistema di gioco. Noi dovremmo essere bravi, secondo me, nell'aspetto tattico a livello difensivo. Perché oggi come oggi ci sono delle certezze che dobbiamo cavalcare nella fase di possesso. Ma dobbiamo dare il giusto peso anche quando la palla ce li hanno gli altri. Soprattutto se hanno giocatori di valore come il Foggia e altre squadre lo hanno. Ecco, Germinalio purtroppo ha subito un lutto. E quindi ha avuto il permesso perché è capitato, tra virgolette, di improvviso ieri. E quindi un lutto familiare. E quindi ci stringiamo a Gianluca facendogli le condoglianze. Ma domani non ci sarà perché è impermesso per questo motivo.